La Guardia di Finanza è impegnata come tutte le forze dell'ordine nel servizio di pattugliamento per far rispettare l'obbligo di restare a casa in assenza di motivazioni valide che consentano di uscire. Questa notte ha intercettato un'autovettura che procedeva a fari spenti nel quartiere di Monterosello a Sassari. Insospettiti dalla circostanza, i finanzieri hanno cercato di fermare l'auto per un controllo e verificare le motivazioni della mancata permanenza in casa. Ma il conducente è scappato a forte velocità imboccando alcune vie contro mano per poi impattare. Dopo un lungo inseguimento contro un'auto parcheggiata è continuare la fuga a piedi. Raggiunto dai baschi verdi, il giovane è tentato ulteriormente di sottrarsi al controllo reagendo con spintoni prima di venire immobilizzato. Protagonista è un ragazzo sassarese di 22 anni con precedenti penali che dovrà ora rispondere di riacettazione perché guidava un'auto rubata di resistenza e violenza pubblico ufficiale e per non aver ottemperato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede oltre a una sanzione, una pena detentiva fino a tre mesi. Grazie. 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 Grazie.